Sì, quale intelligenza la fa da padrona, secondo me Attenzione qui, Bodyslam di Farrell E il Bodyslam di Michelaccio Attenzione, entrambi dentro la fuga Farrell di Michelaccio Eh, attenzione, però qui c'è il ritorno degli altri due C'è il ritorno degli altri due Anche se qui, Farrell, attenzione Ve l'è preso all'ultimo Ve l'è preso all'ultimo, attenzione Uh German super spazzesco Quindi Fatal, è parec troppo Attenzione a Michelaccio, però, attenzione Ma Michelaccio, no, Fatal, non lo vede Non ci credo, non ci credo Non ci credo, se ne va, se ne va No, Fatal all'ultimo Sempre lui, è il più veloce degli altri Il più veloce del gruppetto Ma che dura da 5-6 minuti Attenzione Farrell Non riesce a vadere C'è Fatal Sempre a fare la custodia, la difesa Della gabbia Uh, attenzione a fare, allora Allora, fuga, ma c'è Settulla Attenzione, però, attenzione Cosa fanno? Entra a fare Per noi, guarda, ancora si dovranno massacrare a lungo Per poter attentare una fuga vera e propria Uh, Fatal, cosa vuol fare, Fatal Oh mio Dio, no, non lo becca C'ha fatto qua? Fatal, qui, non ho capito cosa abbiamo voluto fare Di certo, ma ha fatto una bella figura Oh, attenzione Prediction, è incredibile Non ci credo Oh, Fatal, la parola è colpa che è stato di lui Qui Satul potrebbe approfittare No E attenzione Spin Elbow Si spin in pancia Cili Pro Attenzione qui Satul Pro Uh, super kick Non va, non va a segno Non va a segno Eh, perché ha visto Satul Se però qui Fatal è un po' ridicolo, eh Sinceramente Uh, Paisu, bello intanto Va a segno Michalaccio se ne va qua Eh, però Fatal lo vede No, Michalaccio, si allontana Attenzione Attenzione Oh, Michalaccio, incredibile Incredibile Tenta la fuga Tenta la fuga Di nuovo Sei nuovo Non ci credo, non ci credo Eh, lo va a prendere Far Che match incredibile, ragazzi, eh Attenzione Oh, oh, oh Parra se ne va Parra se ne va Non ci credo Non ci credo Ce ne va Ce ne va Se ne va Farrell Se ne va Farrell Ce l'ha fatta Ma abbiamo Nuovo campione Nel WS, ragazzi Il suo nome Astua Farrell L'avevo detto io L'avevo detto Inizio matcha Era quello Con i migliori credenziali Il più intelligente Del gruppo Incredibile Che risultato Farrell Farrell Il nuovo Da Pia Da Pia Da Pia Ezza Incredibile Ragazzi E l'Inghilterra Saranno molto felici Di questo Un Farrell Che va Dunque A 6 punti Mamma mia Lontanissimo Dagli altri Però Realmente Ci saranno molti Avversari E' correttissime Con la cintura Eccolo qui Si va a farlo Il principe D'Inghilterra E' il nuovo Campione Nel WS Con queste immagini E' veramente tutto L'appuntamento E' alla prossima Ciao Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Grazie per la visione!